Com'è? Mi va un po' di questo? Giordano? Nick? Nick? Come? Mi va un po' di questo? No. Non te lo sentite. Ti ho un genio, com'è? Buon complello. Trent'anni. La promessa di un decennio di solitudine. Il violento soprassalto dei trent'anni si placava, mentre Gazzini e Tei si corredano nel fresco del crepuscolo verso la morte. No. Il violento scopo. Vabbè, facciamo girare l'ingolo di più. Apri l'aereo. Aspetta. Vabbè, è una cosa che non sto dentro. Questa è la collezione di Angelo. Ah, ma per questo si funziona. Vedi? Vabbè. 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 Vabbè.